Questa mattina è la presentazione alla città di Pescara e in generale alla regione Abruzzo del progetto politico di Italia in Comune che è un partito nuovo nel senso che ha poco meno di un anno di vita però già a livello nazionale presente sostanzialmente in tutte le regioni. In Abruzzo c'è stato una sorta di appoggio esterno nelle ultime elezioni regionali in quanto comunque c'è stata la presenza di una lista civica che appoggiava il candidato Legnini la lista si chiamava Abruzzo in Comune. Questa lista pur essendo non apparentata con Italia in Comune comunque era molto vicina in termini di identità a quella che è l'identità del nuovo partito che è denominato partito dei sindaci ma diciamo sostanzialmente è un partito dove accanto alla presenza di numerosi amministratori locali c'è comunque la volontà di portare avanti il saper fare, il buon amministrare, insomma mandare avanti persone competenti. Io sono stata eletta con il movimento che esisteva nel 2014, il Movimento 5 Stelle di oggi io non lo reputo più lo stesso partito. Per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni europee, con l'Unione Europea in generale sicuramente nel 2014 c'era molta meno consapevolezza anche da parte di chi è stato eletto nelle istituzioni europee di come funzionasse la macchina europea e di come realmente l'istituzione europea potesse aiutare i vari stati membri quindi la vera cooperazione europea in che cosa consisteva.